E' bene sapere che la vostra moquette è stata incollata con delle colle a bassa emissione. La vostra famiglia vi sarà grata se il vostro artigiano utilizza colle e altri prodotti edili con il marchio di qualità Emicode. Perché garantiamo dei prodotti Emicode senza solventi e ad emissione bassissima e di questo ce ne accertiamo attraverso controlli periodici. Il marchio di qualità Emicode a livello mondiale è molto esigente per quanto riguarda le emissioni e la tutela della salute nel settore dei prodotti edili, sia per l'utilizzo privato, sia per il pubblico. Un segnale sicuro per la vostra salute. Il marchio di qualità Emicode. Emicode sta per colle per pavimenti a bassa emissione, stucchi, fondi, laccature di parquet e altri prodotti edili. Per la tutela della salute e dell'ambiente. Per far sì che possiate respirare aria sana ovunque voi siate. Più di 70 imprese di 12 nazioni con il marchio Emicode porgono un segno di sicurezza su più di 3.000 prodotti. Per la vostra sicurezza. Una prestazione che convince. Da 15 anni.